Esce oggi, venerdì 22 marzo, il nuovo album di Gianna Nannini, Sei nell'anima, dove lo spazio fra preposizione e articolo non è un errore, ma un dettaglio con uno s... Esce oggi, un po' per distinguerlo dalla mia canzone di qualche tempo fa, un po' perché volevo mettere l'attenzione sull'anima racconta la cantante al Corriere della Sera, in un'intervista che è stata l'occasione, un po' per distinguerlo. Anche partendo da quel grido sono nata senza genere presente in 1983, il rock blues teso che apre il disco, li intendo senza genere sessuale, non appartengo anche partendo da quando sei bambino non capisci le differenze, bianco-nero, uomo-donna, che la società amplifica per creare nell'adolescenza ho vissuto altre difficoltà, non mi sono mai proprio il 1983 è un anno cruciale nella vita di Nannini, al punto che sostieni di essere nata allora, era il periodo di fotoromanza, ho perso me stessa confida all'articolo. Proprio il 1983 è un anno cruciale nella vita di Nannini, al punto che sostieni di essere nata allora, era, è stato difficile ma ci sono riuscita, la mia mente ha fatto tutto, quindi sono nata nel 1983 e se qualcuno non ci crede peggio, Nannini assicura che non si sia trattato di eccessi legati alla droga, so che si pensa a quello. Non so cosa sia accaduto quella volta nello studio di registrazione di Planck e lui ormai è morto e non lo può raccordare, era un momento in cui stavo facendo il disco, ero nel cast di sogno di una notte d'estate di salvo, non dormivo, è stato un tilt e ancora, quando sei dentro non ti accorgi della pressione prosegue ancora ripercorrendo quel momento, mi mandavano in tv, da Mike Buongiorno e da Pippo Baudo, ma se recuperate i video del e ancora, quando sei dentro non ero tornata, ma ero ancora piccola, ah, la ripresa piena è arrivata nel 1990 con Ska, il 26 novembre 2010 Gianna Nannini è diventata mamma di Penelope Jane, avuta tramite inseminazione artificia, all'epoca la cantante aveva 56 anni ricordando la sua gravidanza oggi ammette che quanto sia stato difficile reggere alla pressione mediatica, quando ero incinta c'è stata violenza sulla mia e è stato anche un massacro mediato, ma chi può permettersi di giudicare, ha chiesto la cantante, da 40 anni accanto alla compagna Carla.